è lo spookimont ehi ehi ti ho mandato una cosa ooga booga ragazzo chiama il 911 ma mamma è lo spookimont oh è vero ecco a te nonna è lo spookimont è lo spookimont ehi ehi ragazzi volete delle caramelle ma certo perché è lo spookimont davvero andiamo al cinema andiamo al cimitero è lo spookimont facciamo uno sgarzo telefonico è lo spookimont giochiamo a luigi's mansion ooga booga scendiamo le scale ragazzi è novembre è lo spookimont ooga booga ci sei messo paura toff no 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 no